ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento di mille e un tesoro lasciamo stare il tedesco ma c'è qui sopra c'è anche l'italiano mille un tesoro poi le varie lingue sono presenti appunto tedesco francese inglese spagnolo e l'italiano è un gioco aba si riconosce dalla scatola gialla è adatto per 24 giocatori di almeno cinque anni e non più di 99 mi raccomando siate legi a rispettare questa indicazione ecco qui come si presenta c'è alibaba che va a derubare la caverna dei 40 ladroni deve farlo prima che i ladroni chiaramente tornino a casa e ogni giocatore muove la sua pedina per cercare di portare via più tesoro possibile in base a quanto tesoro si prende si fanno altrettanti passi per cui c'è tutto un discorso di logica matematica conteggi da fare e valutare se conviene prendere lasciare quanti passi si può fare bisogna uscire assolutamente dalla caverna prima che arrivi alibaba altrimenti la partita è persa il quadratino eccolo qui mille un tesoro sono i ladroni sulla via del ritorno aiutate alibaba e i suoi amici a impadronirsi della maggior parte di tesori della caverna prima del ritorno dei 40 ladroni scopo del gioco è portare al sicuro la propria pedina e raccogliere il maggior numero di tesori un avventuroso gioco corri e raccogli bene c'è magari l'indicazione dell'autore non la vedo va bene qui abbiamo suspense cinque facette tattica tre facette dura circa 10 15 minuti l'autore forse lo troviamo nel classico libretto aba che ci sarà dentro la scatola sembra quadrata ma forse no siamo a 22 cm per 22 effettivamente quadrata è una profondità di 4 cm e 6 togliamo il cellophane e poi andiamo a vedere come dentro eccoci qua dunque abbiamo il regolamento multilingua l'italiano in fondo così andiamo anche bene questo lo spagnolo ecco qua l'italiano così abbiamo che nome dell'autore che marco teubner e l'illustratrice che è un rick e fisher sempre invece non si pronuncia qualcosa tipo toibner e fisker ma insomma vi vi lascio i commenti eventualmente per correggermi qui abbiamo appunto come riassuntino del gioco colletto anche dietro contenuto troveremo il tabellone 60 carte taverna di cui 19 sono quelli iniziali poi abbiamo le quattro pedine in legno per per i giocatori il capo ladrone che fa da timer il dado per la variante dei bambinetti per giocare a meno di cinque anni c'è la variante col dado e poi queste queste stesse istruzioni come si prepara come sono fatte le tessere attenzione al capo ladrone quando torna come si conclude e la variante appunto per i bambini qui abbiamo autore e illustratrice bene pubblicità qui abbiamo le tessere andiamo subito ad aprirle con l'aiuto del fidato taglierino giallo dunque le tessere possono avere due tipi di sfondi di dorsi questo è uno e non sono le tessere iniziali perché le tessere iniziali hanno il porta della caverna ecco questa è una delle tessere iniziali perché sul dorso alla porta della caverna questa due tesori questo ovviamente ne ha due quando me ne serviva due ecco questa ne ha uno e in più alla faccia del ladrone perché questo farà muovere il lapidina timer del ladrone vediamo se ecco questa ne ha tre tesori io ho anche un muro se ne trovassi una con un tesoro sarei a posto e vi avrei mostrato tutto anzi no cosa vi ho mostrato uno due tre no ve le ho mostrate tutte perfetto un tesoro due tesori tre tesori questo è quanto si può trovare e eventualmente con muri e facce di ladroni poi abbiamo il dado classico dado vediamo quanto è 1 1 ok ha solo tre risultati 1 1 2 2 e 3 3 questa è per la variante appunto sotto i cinque anni quando i passi delle proprie pedine non vengono sanciti dal numero di tesori presenti sulla tessera bensì dal tiro di dado si toglie un po di strategia si abbassa l'età queste sono le pedine per i quattro giocatori abbiamo l'arancione l'azzurro rosa e il verde ok sono giustate da un lato solo e infine abbiamo il capo dei ladroni che appunto il timer che corre a bordo del tabellone molto grossa questa per la misura è effettivamente una dimensione che non si trova speso siamo 5 cm 2 x 5 cm quindi un bel pezzo di legno alle tesserine tanto per darvi un'idea sono quadrate sono 5 cm di lato hanno un bello spessore che non si piega solido e poi abbiamo il tabellone che l'ultima cosa che vi faccio vedere e poi il gioco insomma tutto qua apriamo il cellophane e togliamo anche questo ultimo strato protettivo ed ecco qui il tabellone il retro è a tinta unita con la fantasia standard e invece il fronte è qui dove ci muoveremo qui parte questo a far qui lui parte da qua ogni volta che appare la sua faccetta su una delle tessere prese anzi pescate verrà ecco qui la sua faccetta una volta che appare questa lui fa un passetto quando arriva qui la partita è finita e chi ancora dentro ha perso chi è uscito tra quelli usciti vince chi ha più che ha più tesoro e qui si mettono ovviamente le tessere durante il setup si metteranno a faccia in giù poi si girano i giocatori si piazzano dove vogliono dopodiché si girano si compone la grotta e si comincia a girare prendendo le tessere e rimpiazzandole dal dal mazzo di quelle lì che ha il dorso che ha questa icona sul dorso bene questo è quanto sembra molto carino e non vedo l'ora di provarlo vi ringrazio per la visione vi ricordo che da questa parte potete esprimere il vostro apprezzamento alzando un pollice da quest'altra potete accendere la campanellina e rimanere sempre informati sulle nostre prossime uscite ancora grazie per la visione